Telecamere fisse, telecamere fisse, Vincenzo Nibali parte transennata e adesso bisogna andare oltre, bisogna usare il cuore al di là di quello che è rimasto nelle gambe, il trinio della quick step prova a lavorare in dirittura del traguardo, Vincenzo Nibali cerca ancora l'aerodinamica fino all'ultimo metro Siamo quasi alla curva, siamo quasi alla curva, Ale e Vincenzo, una volata, ci sono i quick step floors che praticamente sono a tutta per Elia Viviani, Alaphilippe sta tirando per Elia Viviani, ormai siamo alla Fontana, Ale e Vincenzo, 300 metri per Vincenzo, parte la volata da dietro Devi reggere, devi reggere Vincenzo, stanno arrivando i quick step con Riccezze, ma il vantaggio è ancora ottimo, il vantaggio è ancora ottimo Ce l'ha fatta Vincenzo, dai non ti vuol stare Vincenzino, è partita la volata dietro, Nibali si gira, alto le braccia al cielo Bravo Vincenzo, sei nella leggenda, sei nella leggenda, cale B1 secondo, Vincenzo, impresa, impresa, impresa Trionfatore alla Milano Sanremo, trionfatore alla Milano Sanremo, dopo il Lombardia, un'altra attacca nella classica monumento Forse per eccellenza, la più amata, la più lunga, la più dura, la più imprevedibile, Vincenzo Nibali, in lacrime Forse per eccellenza, il vantaggio è pienso Per eccellenza, il vantaggio è pienso